I rosoni di Puglia al Salone Internazionale del Restauro, Restauro in Tour, qui a Bari, in Fiera del Levante. I rosoni sono il soggetto forse tra i più sensibili all'attenzione, alla cura, al restauro e alla valorizzazione, oltre che alla custodia di un patrimonio che possiamo definire diffuso nel vero senso della parola, in questo caso in Puglia, ma è diffuso in tutto il Mezzogiorno d'Italia. Qui ne abbiamo esposti, ne abbiamo presentati alcuni dei 33 che fanno parte dell'iniziativa lanciata dalla Compagnia degli Esultanti per avviare il processo di richiesta all'UNESCO per il riconoscimento dei rosoni di Puglia come patrimonio mondiale dell'umanità. La presentazione dei rosoni facciamola in maniera un po' più originale. Partiamo da quello che è il rosone di Trigiano, che ha una sua originalità nel numero anomalo di raggi o di che lo compongono perché sono ben 23, partendo da un nucleo centrale di 12, dalla rosa, dalla margherita centrale di 12, che al suo centro la corolla della margherita è una rosa, è la rosa a cinque petali che campeggia nello stemma della famiglia Orsini. Bovino, tra i più antichi della cattedrale romanica, una delle più semplici della Capitanata di Puglia, così come invece rimanendo in Capitanata abbiamo il rosone della chiesa che custodisce le reliquie di San Francesco Fasani a Lucera, la famosa cittadina cara a Federico II, per poi arrivare e passare da Troia con il suo magnifico rosone traforato, il cui merletto e gli arabeschi è esempio di artigianalità araba, suddettami da Antico Testamento, quindi di radice ebraica, incastonato in questa facciata romanico-gotico di una chiesa cristiana. Il classico esempio di ecumenismo è quello che è stato definito un autentico sigillo di pace. E poi questo, forse un po' meno conosciuto, ma è una sorta di prototipo per quello che sarà poi il rosone di Santa Croce a Lecce ed è il rosone della chiesa a Minervino di Lecce nel Salento con questi angioletti che circondano e che arricchiscono la motivazione, il decoro, che poi si trasformeranno invece in quelli floreali del rosone di Santa Croce a Lecce. Per poi puntare su questa galassia, su questa esplosione di rosoni dal rosone di Bitonto, la cui asimmetria invita all'idea del movimento rotatorio. Oppure questo a fianco che è il rosone della cattedrale di Ruvo, la cattedrale contadina, la cattedrale così così affascinante, altrettanto nella sua semplicità. Mentre sotto vedete il rosone della trulla della cattedrale di Bari. E poi invece il rosone di Galatina, bello di per sé ma soprattutto prezioso per quello che custodisce all'interno della basilica, la cosiddetta Assisi del Sud, la basilica dedicata a Santa Caterina di Alessandria. E naturalmente il riferimento al solstizio che vede protagonista il rosone della cattedrale di Bari con la proiezione che il 21 giugno trasmette e proietta sul mosaico davanti al transetto nella navata centrale. Ce ne sono altri di rosoni anche nella parte posteriore. L'importanza di questa iniziativa che ha avviato il percorso che durerà un po' di cinque anni è il coinvolgimento delle comunità locali. L'attenzione che già monta nei confronti dei rosoni che all'interno delle piccole cittadine spesso sono stati visti senza essere osservati. L'abitudine a passarci sotto quasi li rendeva trascurati. Invece dal 21 giugno, giorno del solstizio, che abbiamo con la compagnia degli esultanti lanciato questa iniziativa, si stanno moltiplicando. Le iniziative prevedono una serie di appuntamenti sul sagrato, all'ombra, alla luce, sotto ogni rosone per comunicare alle comunità locali l'avvio del processo e quindi le linee guida del progetto. Un progetto che vedrà l'avvio dello studio e della produzione di materiali scientifici da parte del comitato scientifico che invia di formazione e poi tutta una serie di attività culturali che accompagneranno l'animazione culturale che renderà più vivace e più coinvolgente la partecipazione di tutte le comunità a questo canto corale, un canto di luce, un canto di storia, di identità culturale e quello che si dice l'amor loci che nella condivisione del piacere e della meraviglia dà vita a un vero e proprio genius loci. Grazie a tutti.